Mi sono sentita tradita, usata, offesa professionalmente e umanamente. Sono stata sempre pagata a nero, che è brutto dirlo, direttamente dal maestro. Io venivo informata dell'evento, delle modalità di viaggio, di soggiorno tramite le ordinanze, esattamente come gli altri. La differenza che c'è sempre stata fra me e gli altri orchestrali era il fatto che loro ogni volta, prima di partire, ricevevano la diaria dall'ufficio predisposto. La mia diaria non mi veniva corrisposta dall'ufficio predisposto, mi venivano poi corrisposti dal maestro i soldi. Ogni volta che veniva fatto un concerto non ho mai avuto compensi dall'ufficio predisposto. Ci ha documentato la sua attività in interrotta e continuativa, con ordini di servizio all'interno dei quali il suo nominativo compariva insieme agli altri membri della banda della Polizia di Stato. Ci ha prodotto delle fotografie che la ritraggono insieme agli altri componenti della banda. Questa banda non avevano all'interno l'arpa in pianta stabile, quindi c'era bisogno di un decreto che cambiasse l'organico della banda. Per tutti questi hanno aspettato che ci fosse questo concorso, questo concorso non è mai arrivato. Qui siamo all'editorio in correnato zero, questa sono io che suono con loro. La Polizia di Stato, per tramite dell'Avvocatura di Stato, si difende dicendo che non è vero, erano prestazioni occasionali, che svolgeva gratuitamente la prestazione per arricchire il proprio curriculum personale. Quindi erano dei rimborsi spese senza documentazione fiscale, che venivano elargiti dagli enti organizzatori in concerto. Quindi parliamo comunque di enti pubblici che avrebbero mosso delle somme di denaro in contanti, dei quali non si sa da dove arrivano e non si sa bene dove vanno. Ora tutto questo ci sembra assurdo. È strano che una persona lavori in nero per la Polizia di Stato, è altrettanto strano che la Polizia di Stato chiami a lavorare dei lavoratori occasionali senza una determina dirigenziale, senza fattura, una ricevuta. La banda musicale della Polizia di Stato, grazie. Siamo andati, avevamo questo evento importantissimo che purtroppo è stato interrotto da un evento meteorologico bruttissimo, una tromba marina. In conseguenza di questo evento la mia arpa, mia personale, e io ero l'unica che suonava con lo strumento di sua proprietà. Il mio strumento si è distrutto, si è danneggiato in maniera irreparabile. L'abbiamo dovuta buttare ed è iniziata tutta questa storia, perché mi è stata ridata l'arpa dopo un bel po' di anni. Ma soprattutto io sono stata chiamata immediatamente dopo questo evento per suonare a un altro evento. E ho detto che non sarei mai più salita su un palcoscenico, entrata in caserma per le prove, senza una regolare, cioè un contratto, un qualcosa. E da lì è nata tutta l'avventura legale. E' pieno di musicisti che hanno fatto comunque sia a cause, a teatro o che, ma un teatro già non va bene, ma la polizia di stato è la legalità. E questo è una cosa che credo che non sia proprio veramente giusto, soprattutto perché la polizia non è questo.